Amici ben trovati ad una nuova recensione di una Multicart che era veramente tantissimo tempo che stavo cercando di procurarmi. Innanzitutto un doveroso ringraziamento a Marco e Roberto del Brain Fusion, tanto per cambiare, perché senza di loro questo pezzo non sarei sicuramente riuscito a trovarlo ancora per un bel po' di anni. Il prodotto in questione, come potete vedere, è la Harmony Ancora Multicart per Atari 2006. Atari, i videogiochi più venduti nel mondo. Atari si collega con facilità ad ogni televisore. Atari, la più vasta gamma di giochi con novità ogni mese. Nessun altro lo fa. Atari, tanti giochi entusiasmanti, intelligenti, famosi come Pac-Man, Space Invader, Defender, Asteroid. Atari si gioca in famiglia con gli amici o da soli. Atari, i videogiochi più venduti nel mondo. Ci sarà un perché. L'Harmony rappresenta praticamente l'eccellenza per quel che riguarda le Multicart per Atari 2006. Un prodotto sempre più difficile da trovare perché non più realizzato o se realizzato viene prodotto nei piccoli lotti su ordinazione. Infatti i ragazzi del Brain non ce l'hanno più e mi dicevano l'altro giorno in cui ero in negozio che molto probabilmente sarà difficile che Atari Age, perché è un prodotto provenito da Atari Age, ne realizzi altri o almeno nei tempi brevi. Come accennavo all'inizio, l'Harmony Ancora è un prodotto realizzato veramente magistralmente e si vede anche dalla sua struttura. Come la prima generazione di cartucce Atari, nella parte inferiore ha la protezione, cosa che come molti sanno sparisce nella seconda generazione di cartucce. Questa protezione serviva proprio per una sicurezza maggiore per quel che riguardava il pettine della cartuccia. Nella parte superiore abbiamo l'inserto della SD barra micro SD perché si può utilizzare l'adattatore e un jack mini USB per gli aggiornamenti del firmware, ma andiamo a vedere qualche fotografia più nel dettaglio per capire meglio come è appunto strutturata la cartuccia. Chi mi conosce e chi segue i miei video sa quanto io sia affezionato al mondo Atari e parlando del 2006 per quel che riguarda la console ma soprattutto i giochi, tutto quello che mi interessava ormai fa parte della mia collezione. Ma conoscendo la fama e l'importanza di questa multicart, ho ritenuto che dovesse fare parte anche questo prodotto di questa grandissima famiglia. Come abbiamo avuto modo di parlare più di una volta, uno dei mercati ombriù più proficui è indubbiamente quello del Jaguar, ma subito dopo al Jaguar abbiamo indubbiamente l'Atari 2006 dove ancora oggi vengono prodotti sì giochi nuovi ma anche demo, showerware, ombriù vari eccetera eccetera. Grazie appunto a questo prodotto ho la possibilità di testare, di provare, vedere cosa mi piace e non mi piace e se c'è qualcosa di nuovo indubbiamente comprarlo. Quindi andiamo a vedere un po' insieme il suo funzionamento. Per il nostro test utilizzerò il mio amato Atari 7800 perché per chi non lo sapesse il 7800 è compatibile praticamente al 100% con l'Atari 2006 e di conseguenza anche con questa multicart non ci darà assolutamente nessun problema. Tra l'altro ho la possibilità di utilizzare il suo classico gamepad che è un po' devo ammettere più comodo dei classici joystick del 2006. Quello che vediamo praticamente è la root della SD installata all'interno dell'Harmony quindi non c'è problema di cancellare eventuale software e così andare a perdere dei dati importanti perché il firmware è già installato nella cartuccia stessa. Nella root possiamo creare tutte quante le cartelle che vogliamo con i nomi che vogliamo. Qui vi sono già cinque cartelle pronte con in ordine alfabetico diviso appunto per le varie lettere un bel po' di giochi da provare a testare. Vediamo velocemente la navigazione e facciamo partire un gioco. Qui direi di provare uno dei miei preferiti che è River Raid. Quindi Q tra la Q e la S. Allora su e giù scorriamo naturalmente in verticale e in orizzontale i titoli. A destra e sinistra invece andiamo di pagina in pagina. River Raid 2, River Raid. Ed eccolo qua. Proviamo a fare una partita e vediamo come si comporta il gioco. Giusto per sfizio direi di testare qualche cos'altro. Sempre tra i miei titoli preferiti cercherai un bel Pitfall. Ecco qua Pitfall. Basta o starai ore e ore a giocare a Pitfall. 3 è il numero perfetto e concluderei con un ultimo piccolo grande capolavoro e cioè Vanguard. Per quello che riguarda l'Harmony come multicard standard direi che abbiamo concluso questo video. Ma è soltanto la prima parte. In preparazione ve ne è una seconda dove sarà mio grandissimo piacere presentarvi la caratteristica più importante di questa multicart. L'Harmony Core supporta micro SD o SD per una capienza fino ai 32 GB ed ha la possibilità di utilizzare ROM fino a 512 Kbyte. Ma la cosa più importante è che può ospitare al suo interno un chip integrato che permette di implementare notevolmente le capacità grafiche della scheda e quindi di supportare giochi scritti appositamente. Nella seconda parte di questo video sarà mio grandissimo piacere insieme al preziosissimo aiuto di Roberto del Brain Fusion mostrarvi la comparazione di giochi che sfruttano appunto l'ausilio di questo chip grafico. Io ho la versione standard dell'Harmony Core. Roberto ha quella senza chassis dove potrete mirare anche il chip appunto integrato. Vi consiglio di rimanere sintonizzati e di attendere con pazienza la seconda parte appunto di questo video perché è una cosa che non si è ancora vista nella rete e soprattutto grazie appunto a Roberto potremo vedere assieme che cosa ancora oggi l'Atari 2006 riesce a proporre. Or dunque sono arrivato alla fine di questa prima parte. Vi lascio con una carrellata splendida di pubblicità di giochi inerenti alla console dell'Atari 2006 a dir poco bellissima. Un vera che capire i nostalgici. Se l'avete già visto vi consiglio di guardarvela anche se è un po' lunga. Se non l'avete mai visto siete degli infami se non la guardate perché è veramente un meraviglioso tuffo nel retro game degli anni 80. Quindi grazie per ora e alla seconda parte il più brevemente possibile. Ciao a tutti! Grazie 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 a tutti! So you think you're fast enough to beat the bomber? Grazie a tutti! 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 The Cosmic Arc searchs up strange creatures on distant planets. But the deeper the arc travels in space, the tougher it gets. We may never get back to Earth. Boys, when you're real, we're back. Cosmic Arc, biomagic. The video system must be bought separately and connected to the TV by your parents. In each of us, there is both good guy and bad guy. In the G.I. Joe video game, you can be G.I. Joe, fighting for right and justice, or the silver villain over battling other players with laser blasts and venom bombs. We can defend, attack, save, destroy, play the courageous hero, or the unspeakable villain. The choice is yours. G.I. Joe, new from Parker Brothers. At last, what you've never seen, never heard, never felt in a video game. Chart and challenge. Warp. But wait. Fight and fight again. Retreat to refuel. Battle. And be blasted right out of your senses. For the Atari video computer system, Star Master by Activision. There's a sensation in playing the reactor video game that people really get into. Good luck. Suddenly you're bombarded by atomic particles. You bounce them against the reactor's control wall. Hurrah, you neutrino! As the reactor core expands, you face heavier particles. Back, positron! And new dangers culminating in the dreaded vortex. Your turn. Me? Reactor! Reactor from Parker Brothers. The ones to beat. Captain, a wrestling ship is attacking. Send out the saucers. Too late, Captain. He's shot them down. Dispatch the hopping droids. It's no use, Captain. He's attacking the brothership. Quick, put him on the screen. Whoa! They're ugly. Buck Rogers, planet of Zoom, from Sega. Get me, Atari. Sorry, Miss Jenny. You gonna slam dunk me, Atari? The Atari video computer system is 20 cartridges with 1,300 game variations you play on your own TV set. Don't watch television tonight. Play it. You are entering a battlefield of the future. The Star Wars Jedi Arena. Becoming a Jedi Master takes practice. Using your lightsaber, try to penetrate your opponent's defenses. But watch out, the Whirling Seeker can attack on its own. So follow your instincts. Ah, now you're ready to take on any challenger who dares to oppose you. Play the Jedi Arena home video game. Alone or head-to-head, the challenge awaits you. From Parker Brothers, the ones to beat. In a galaxy far, far away, you are needed as a Rebel pilot. Become one in the Return of the Jedi Death Star Battle home video game. Your mission, fly Millennium Falcon through enemy force field while battling TIE interceptors. Ultimately penetrate and destroy the Death Star before its completion. But beware, the Death Ray can stop you. Time is running out. Save the Rebels. Play Return of the Jedi Death Star Battle from Parker Brothers. If you can stand the pressure. Star Wars. It's great in the arcade. Whoa! The TIE Fighters! Fireballs! They're coming right at me! Watch the laser towers. Aim for the tops. Pick in the catwalks. Use the force. They're coming too fast! It's way! It's way! My shields are gone! All right! I'm going in! Oh! Some game, huh? Some game! In a galaxy of video games, there is only one. Star Wars! The Arcade! This commercial is based on a true story. Hello? Tracy! No, we don't need a babysitter tonight. Thanks, anyway. After a family bought an Atari video game, they had no trouble getting babysitters. Oh, my God! Hello? Kate! No, we don't need a babysitter tonight. Bye! Everybody enjoys Atari, because Atari has so many different games to enjoy. Hello? Karen! No, we don't need a babysitter tonight. No other company offers you as many different video game cartridges as Atari. So you created Atlantis for a magic. I was at Atlantis. The skies above the underwater city filled with Gorgon attack vessels. Three sentry posts fought desperately, but they were no match. For the Gorgons, death praise! But you're here. I thought the Gorgons destroyed everybody at Atlantis. We did it! Atlantis by a magic is for Atari and in television systems. Atari presents its newest star. Vanguard! Just like the Arcade 6 Zone. Let me show them the Mountain Zone. Hey, check it out. Get the energy pie. So long, Harley Rockets. Hey, Rainbow Zone's my turn. You can shoot in four directions. All right! I'll just freeze to the strike zone. The wall! The wall! Yeah! But fellas, who destroys the Gond? Luther destroys the Gond. Vanguard is here, only from Atari. Do you have Ice Hockey by Activision? Think you're ready for it? One of the roughest video games around for your Atari game system? Ready to battle for the puck? Well... To inflict fierce body checking? Yeah! Furious stick checking? Yeah! Ruthless tripping! Yeah! You really think you're ready for all that? I'm ready! I'm ready! Fine. Cash or charge. Ice Hockey by Activision! Commision! Atari Anonymous. My son, Boris, has a missile command problem. My mission in life is to save all of mankind. Lately, my daughter has developed a similar problem with Atari Warlords. Now, with video pinball, my husband is acting funny lately. With Atari games so ingenious, so involving, so intense, I ask you, Atari Anonymous, is this problem contagious? I'd like an Atari 2600 system, please. Tell me, you're buying it because it plays hundreds of fun and challenging games, right? No. Oh? Then it's because of its incredibly low price? Not really. Well, it must be because its new and exciting games are now priced lower than ever. Uh-uh. Then why are you buying the Atari 2600? You see this cute little girl over here? Yes? She's relentless. The Atari 2600 video game system and its new exciting games at a new low price. Two more smash hits from Atari. The centipedes are coming. Get your fingers moving fast. And the spider's out to get you. Do you think that you can blast? The scorpions are dancing and the fleas are like a jet. If you're looking for some action, centipedes the game to get. And get Ms. Pac-Man with four screens, floating fruit, even pretzels. Honey, don't you know? I'm more than Pac-Man with a bow. Centipede and Ms. Pac-Man. Only from Atari. Only from Atari. Made especially for systems from Atari. The video game that lets you help E.T. get home. Just in time for Christmas. Happy Holidays. It's Atari Mario Brothers with Mario from Donkey Kong, his brother Luigi, and lots of crazy creatures. And it's twice the fun when two play at once, because you need all the help you can get. Mario, where are you? Mario Brothers, new from Atari. Just last night, I was lost in the jungle with Pitfall Harry, surrounded by giant scorpions and man-eating crocodiles. Well, Harry and I just grabbed a van, swung through the trees and over the tarpits and found the jungle treasure. It was really neat. If you haven't met Pitfall Harry, you're missing the year's most incredible video game adventure. Pitfall for the Atari 2600 and Intellivision. Since I met Pitfall Harry, no other man will do. Pitfall designed by David Crane for Activision. I'll blow this tower to smithereens! Time bombs! Try to get up there in time, Spider-Man! Watch me clean my web, goblin! Watch yourself fall, silk slinger! Stop the bombs and tie! If I don't get you webhead, my young nassies will! Hold it, Hannah! And you're running out of fluid! Is this more action than even Spider-Man can handle? Spider-Man, a video game from Parker Brothers, the ones to beat. Hey! Yes? You look like a real jerk. Well, I am a corporate executive. He stops exciting things from happening. So what you doing? Well, Muffy Buffy Biff Jr. and I are going on our Sunday drive. Oh, no, you ain't. You're going to play Pool Position! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Good way, Clarence! Aw, too bad! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Oh, my God! Having a good time! Oh, my God! All position from Atari. It'll bust your crack and leave skid marks on your soul.